Ha detto circa l'Egitto. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, Nefes. Buonasera amici carissimi, Nefes vi saluta. Era tanto tempo che non venivo a porgervi il mio saluto, ma io sempre vi ho seguito, anche se non avevo la possibilità di parlarvi. Vedo con piacere che siete riuniti qua questa sera per ascoltare le nostre parole. La vostra guida mi ha pregato di aggiungere ancora qualche cosa a quello che essa ha detto circa l'Egitto. Ma ben poco io posso dirvi di importante che essa non vi abbia già detto. Sì, posso anch'io confermare quello che la guida vi ha detto è che la vera civiltà dell'antico Egitto è una civiltà sconosciuta all'archeologia di oggi. Sì, è una civiltà che è sepolta sotto la sabbia del deserto e che solo un grandissimo lavoro di scavo può portare alla luce. Vorrei ora dirvi come è nata la schiavitù in Egitto. Voi forse mi domanderete se in quella civiltà antica pre-egiziana, prima di quella egizia che voi conoscete, esisteva la schiavitù. Ebbene, in un certo senso io devo dirvi sì. Anche in quella illuminatissima civiltà, in quella civiltà spirituale, esisteva la schiavitù. Perché, direte voi, voi sapete che vi sono alle prime incarnazioni dell'uomo delle razze che ben poco hanno di umano. Sono razze simili alle bestie che sono quasi prive di intelligenza. Ebbene, queste tribù, per così chiamarle, che si avvicinarono alla rigogliosa terra dell'antichissimo Egitto, furono bene accolte da quegli uomini di allora, che non conoscevano la violenza, e furono tanto educate, tanto ben trattate, che queste tribù non si vollero più allontanare. Ma poiché la loro intelligenza era limitata, furono usate per i lavori più faticosi. Non che fosse loro imposto di fare le fatiche più gravi, questo no, certamente, perché delle creature evolute non possono violare la volontà di chi che sia. Ma queste tribù stesse si sottoposero a questi lavori pesanti, riconoscendo di non sapere fare altro. Ecco che, con il passare del tempo, questo atto di sottomissione, questo reciproco e naturale aiuto, aiuto che veniva fatto in un ordine, in un perfetto concetto di società, si andò perdendo. Ed allora che cosa accadde? Accadde che nacque la schiavitù, che tribù furono prese e fatte schiave, fu loro imposto di lavorare, anziché, come accadeva prima, fossero le stesse persone ad accettare di lavorare. E così da questo, anche nella seconda civiltà dell'antico Egitto, quella più vistosa, quella più ricca, quella in fondo anche più materialistica, rimase la schiavitù. Si usava della vita degli schiavi per edificare quei vasti monumenti, quei giganteschi monumenti che voi tutti conoscete. Domanda, Quella razza con i capelli biondi che esisteva, Nefes, erano gli antichi Atlantidi discendenti di antichi Atlantidi. Domanda, erano tutti biondi o in prevalenza biondi i discendenti degli Atlantidi? Nefes, Non erano esclusivamente biondi, ma certo erano più chiari di certe altre razze, della Mesopotamia e via dicendo. Domanda, C'era il mare dove adesso c'è il deserto? Nefes, O era una terra fiorentissima? Voi non sapete, cari fratelli, il pianeta Terra quale trasformazione abbia avuto. Basta ricordarsi la stessa fine di Atlantide che era originariamente un continente vastissimo, di proporzioni immense che voi neanche immaginate e che poi lentamente, poco a poco, si inabissò, finché l'ultimo residuo di Atlantide, l'ultima grande isola, sprofondò improvvisamente quando tutti voi sapete e nel modo che tutti voi sapete, cari fratelli e sorelle. E adesso vi lascio per non annoiarvi. Tornerò con piacere e salutatemi tutti gli altri fratelli e sorelle che non sono qua presenti questa sera. Tornerò con piacere Tornerò con piacere Tornerò con piacere Tornerò con piacere Grazie a tutti